Pace e speranza a voi tutti fratelli e sorelle, a questa umanità, pace e speranza a tutta l'umanità, questo è il motivo anche di questo cammino. Con indosso un saio e ai piedi i calzari francescani, al collo la conchiglia di San Giacomo, barba lunghissima e sguardo brillante, fratel Beaggio Conti, che fa parte dell'Associazione Missione e Carità di Palermo, arriva dalla Sicilia a piedi con la croce in spalla. Noi veniamo dalla Sicilia a piedi, in cammino siamo da più di un anno per tutte le regioni ecco dell'Italia. Prima di arrivare ad Arezzo ha visitato anche i luoghi del centro Italia colpiti dal terremoto. Sì, stiamo entrando nella Toscana da due giorni, abbiamo lasciato l'Umbria, da Sisi, Gubbio, siamo stati e ora siamo entrati da due giorni in Toscana. Ora passeremo la Toscana per poi andare anche in Emilia Romagna e avventaglio tutte le rimanenti regioni. Noi lo incontriamo in via Fiorentina, di ritorno dal Duomo di Arezzo diretto verso il Val d'Arno. Le volte ci mandano a quel paese, ci giudicano, mamma ci dicono parole pure e io alzo la croce, gli faccio il Padre Nostro e tu vedi che si ammorbidiscono o vanno via? Vanno via? No, 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 perché la croce è dolorosa, ma è gloriosa ed è gioiosa. È l'egoismo, è l'indifferenza, è il male primario. State attenti ai pericoli, ma cerchiamo la verità e andiamo verso il bene. Il male è sempre in agguato, ma rispondiamo al male con il bene. Sì, sì, sì.